La Repubblica Italiana compie 71 anni ad Agrigento la cerimonia dell'anniversario in piazza Vittorio Emanuele tra le forze armate e di polizia. Il messaggio del Presidente della Repubblica è come sempre, come al solito, molto preciso, molto puntuale, raccoglie quelli che sono i problemi attuali, i dolori della nostra terra, ma contemporaneamente dà anche la direttrice di come affrontare la risoluzione di questi problemi nel miglior modo possibile. Il richiamo ai valori della condivisione, ai valori della legalità, della collaborazione tra le varie istituzioni, Stato, autonomie locali, sono praticamente la direttrice del messaggio nel quale mi riconosco personalmente oltre che come nel ruolo di prefetto e credo che sia un messaggio molto comprensibile con il cuore da parte di tutti gli italiani. La partecipazione delle scuole sotto il profilo musicale, sotto il profilo della recitazione di pensieri e di poesie, diciamo che è un dato ormai abbastanza consolidato, ma d'altronde senza la collaborazione dei giovani la domanda è c'è futuro per una comunità? I giovani diventano via via, giorno per giorno, la spina dorsale e questa spina dorsale deve essere mantenuta viva e dritta. È sempre un momento di grande partecipazione e di orgoglio per la scuola essere presente in una manifestazione in cui si ricorda l'istituzione della Repubblica Italiana, il pensiero a tutti caduti. Per noi è anche e soprattutto un momento di crescita perché nelle nostre aule, nelle classi nostre in questi giorni hanno molto parlato di questo evento fondatore della nostra Repubblica. I nostri ragazzi sono bellieti di essere i fruttori dell'offerta formativa anche per questo seguimento importante della vita scolastica. Sì, è un giorno importante, lo festeggiamo come ogni anno, lo festeggiamo nel ricordo ma anche guardando avanti, guardando a un'Italia che si rigenera, che è fatta di talenti, che è fatta di persone per bene, che è fatta di forze dell'ordine che in questi anni hanno con il loro contributo resto grande il nostro Paese, un'Italia che guarda al futuro, che guarda all'Europa con coraggio. Lo celebriamo e lo facciamo nel ricordo di ciò che è stato e con l'ambizione di diventare sempre migliore e sempre più grande. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.